Sì. Grazie per essere qui. Buon proseguimento. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buonasera. 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 Non risponde. Buonasera. Grazie a voi per averci ospitato. Era un salvatore bello. Grazie per averci ospitato. Facciamo del nostro meglio. Ma siete proprio una famiglia voi? Marito, moglie e figlio. E nel caso specifico un nipote e un amico di famiglia. Un amico di famiglia. Famiglia allargata. Ad abbondanza siamo. Complimenti. Venite da barile voi? Da barile. Il bue sta bene. Tutti in buona salute. Salute anche la Sinello. Mangio, mangio. Sono tranquilli. Auguri allora. Grazie. Tu come ti chiami? Angioletto. Mi stiamo finito. Mi sono messo nella labbra. Sì, sì. E questo diciamo medentino. E' un gesso bambino un po' cresciutetto. Vabbè, c'è l'esigenza. Come va? Non lo conosce? No. Di là non ti metterà. Non lo mettete. Bene, facciamo tanti cuori. grazie. Grazie a voi. E del dono anche della presenza, del messaggio della Natività, no? E esprime soprattutto questo valore della presenza di Dio che si è fatto uomo. Grazie, buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie a voi di nuovo. Arrivederci. Arrivederci. Tanti auguri. Ciao. 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 Grazie. Grazie. Ecco, si è arrivato. Se l'ha già scocciato. Perché non lo fanno mai intervenire? Grazie. 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 La facciamo meglio noi la pasta in casa. E ora di dove siete? Noi dalla montagna. C'è il ferrettino per fare... Il ferrettino. Stai zi che fai più bella figlia. Non la conosco la pasta. I fusilli? No. Ma questa è la farina di qua. Non è buona per farlo. Sicuro. La farina nostra è proprio un semolino. È proprio grano a terra. Non è grano a terra. No, no. Ma con la RAI lavorate? O in privato? Con la RAI? Che RAI è questa? No, RAI 3 Basilica. È acceso. Sì. 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 È passato l'altro. È passato dritto. Ma guardami questo. No. No. E vi vi domé Un ottimo. È passato. Ne Ganzi. È passato vero. Lì devi guardare, hai visto? Le capre, le caprette, attenta al gradino, hai visto? Due sono, non è il cavallo, il cavallo l'abbiamo visto prima, non è il cavallo. No, stai, stai, stai. Una sta là, l'altra sta là. Due. No, noi vediamo le pezzi. Signora, non approfittate le bruschette? Sono bella bruscata. No, non approfittate le bruschette. 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 Non approfittate le bruschette. Grazie. 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 Grazie.